finita l'estate parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti e per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot chiocciola occhiopavese.it da settembre riparti con noi riparti con occhiopavese sono sul piede di guerra i residenti di via silvio pellico a voghera a causa di una serie di malformazioni della strada che rendono la vita impossibile a pedoni ciclisti automobilisti a spaventare soprattutto una bucca nell'asfalto profonda circa 30 centimetri che nonostante le numerose segnalazioni continua ad essere semplicemente tamponata senza che venga realizzato un vero e proprio fondo che escluda il possibile ricrearsi della cavità un pericolo quindi non solo per i pedoni ma anche per ciclisti automobilisti che rischiano di danneggiare le sospensioni dell'automobile pochi giorni fa era stato posato sulla buca un cono di segnalazione del pericolo misteriosamente sparito durante una delle scorse notti oltre povo ghiera parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016 2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltre povo ghiera marketing chiocciolagmail.com